Benvenuti cari follower, un fortissimo terremoto ha colpito l'Italia questa notte, martedì 14 novembre 2023, causa grande paura nella popolazione, ma prima di entrare nei dettagli premi il pulsante. Mi piace per questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche, in modo da ricevere una notifica immediatamente dopo ogni nuovo terremoto che si verifica in Italia, martedì notte, intorno alle 6 e 17 minuti della sera, la Terra ha tremato forte nel centro Italia. Secondo il centro sismologico europeo, il terremoto è avvenuto nel sud delle Marche, precisamente a 12 chilometri a sud di Fermo, 79 chilometri a nord-ovest di Pescara e ad una profondità di 16 chilometri, sopra la superficie terrestre. Secondo il centro europeo per il monitoraggio dei terremoti, l'intensità del terremoto ha raggiunto il 4,3 della scala Richter e gli abitanti hanno avvertito una chiara scossa durata alcuni secondi. Ciò ha causato un grande stato di paura tra i residenti, che hanno lasciato le loro case spaventati. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, questo terremoto non ha causato alcun danno, solo una chiara vibrazione che è stata avvertita dai residenti. Infine, condividete con noi i vostri commenti, cari follower, che abbiate avvertito, o meno il terremoto.